Cristo è risorto, buona giornata e buon inizio settimana carissimi amici. Oggi è un giorno fantastico, è un giorno benedetto poiché Dio è con noi, l'Emmanuele, il Dio che cammina al nostro fianco e che ci parla, parla direttamente al nostro cuore. Accogliamo quindi la sua parola che ha qualcosa da dirci anche in questa giornata. Vangelo secondo Luca, capitolo 11, dal 29 al 32. Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire, questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, poiché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco qui vi è uno più grande di Giona. Amen. Cari amici, oggi abbiamo un nuovo aspetto nella storia del ministero di Gesù pubblico. Un aspetto in cui è Gesù che vede le folle accalcarsi e sente, sente dire. Un po' come noi quando quotidianamente leggiamo le news, le ascoltiamo alla radio, le vediamo in televisione, sentiamo tante cose che si dicono sulla politica, sulla Chiesa, sul clima, un po' su tutto. E Gesù sentiva le cose che dicevano e che chiedevano a lui anche, perché parla di una generazione che cerca un segno. Innanzitutto Gesù ha fatto i segno, a parte nascere dalla Vergine Maria, però il segno di quella luce, di quella stella che i magi dall'Oriente hanno visto e sono andati quindi fino a dove si trovava il luogo dove illuminava l'apparizione degli angeli e tutte le cose che si sono dette di Gesù. Come li ha accompagnati in Egitto, fuori dall'Egitto, quando Gesù comunque è iniziato poi a predicare il Vangelo, sempre ci sono stati segni. Pensiamo anche quando immediatamente Gesù ha predicato nella sinagoga, ha guarito un indemoniato, ha liberato un indemoniato. Quindi Gesù ha manifestato segni dall'inizio della sua predicazione, dall'inizio della sua esistenza. Mi fa un po' pensare anche a noi stessi e alla nostra generazione, quante volte si dice se Dio esiste non dovremmo vedere la guerra nel mondo, non dovremmo vedere questa epidemia, questa pandemia, queste situazioni, queste crisi. Quindi siamo sempre di fronte a un atteggiamento di coloro che pur con i segni della presenza di Dio, ma non vogliono vedere. Poiché, dice Gesù, questa generazione malvagia cerca un segno, che alla fine non si sa quale segno cercavano. Poiché Gesù addirittura ha risuscitato anche Lazzaro. Gesù ha sanato i lebrosi, ha dato la vista ai ciechi, ha curato le malattie impossibili come la lebra. Quindi, cari amici, mettiamoci nella situazione. Tra l'altro, poco prima aveva liberato da un demonio Gesù, l'abbiamo visto. Cioè, la potenza di Dio nel figlio suo, Gesù Cristo, è stata manifestata. Segni ce ne sono stati da quando Gesù è nato fino a dopo e tutt'oggi ci sono i suoi segni. Quindi la questione non è che non ci sono segni. Per questo dice una generazione malvagia. Malvagia perché? Coloro che chiudono gli occhi di fronte a quello che Dio fa. Chiudono gli occhi di fronte alla parola che si fa carne. Quante volte anche noi siamo così, increduli. Dio si è manifestato in noi, Dio ci ha anche guarito, Dio è intervenuto nella nostra vita, eppure noi non siamo soddisfati. E di nuovo chiediamo segni. Signore, fammi vedere se Tu mi ami. E' certo che ti ama, è certo che ci ama, cari amici. Ma Gesù, di fronte a questa situazione, che è dell'uomo comunque, non solo di una generazione, e anche mia, dice Non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. E quindi si paragona al profeta Giona, quindi ciò che è avvenuto di lui, e dicendo che questo è il segno che rimarrà per sempre. E chiaramente per noi il segno, lo annuncio ogni mattina, è che Cristo è risorto. Amè? Questo è il segno più bello, cari amici. È il segno che ci fa gioire. È il segno che ci fa andare avanti. Lo ha detto San Paolo, se i morti non risorgono, allora mangiamo e beviamo, perché domani moriremo. Se Cristo non è risorto. Ma se invece Cristo è risorto, rallegriamoci, esultiamo, poiché Cristo ha sconfitto il peccato, la morte e ogni malattia. E possiamo chiedere segni. Dio ce li manderà, Dio ce li manifesterà. Ma il segno più grande, lo ripeto, è che Cristo è risorto. Questa è la nostra fede. È vero che noi siamo uomini concreti, uomini materiali che hanno bisogno di vedere, di toccare. Ma io vi dico, la risurrezione la possiamo davvero toccare. Ciò di cui invece abbiamo bisogno è di stare con il Signore. Mettere in pausa la nostra vita quotidianamente e stare con Lui. Perché è Lui, grazie al suo Spirito Santo, che vediamo, che è all'opera. È chiaro che se io spengo la luce di notte, perché non c'è il sole, io nella casa non posso andare da una stanza all'altra, perché non vedo nulla. Non parliamo se ci sono le lampadine con la fotocellula, perché oggi ormai abbiamo un po' di tutto. Abbiamo il telefonino, eccetera. Ma se non avessimo nulla in una casa, al buio, di notte, non vediamo niente. E possiamo dire, ma guarda in questa casa non c'è il letto, non c'è il divano, non c'è la tv, non c'è nulla. Perché è tutto buio e noi facciamo così con Dio. Non accendiamo la luce nella nostra vita di fede o la accendiamo poco. E questa luce è la preghiera, cari amici. La preghiera che mi fa sentire che Cristo è risorto e mi fa vedere che c'è nella nostra vita. Quindi non camminiamo come questa generazione al buio e diciamo non c'è nulla, non vedo niente. Abbiamo il coraggio, giorno dopo giorno, di accendere la luce, che è l'invocazione dello Spirito Santo. È il decidere di stare con il Signore Gesù. E soprattutto scegliere come il miglior amico, il miglior compagno della nostra vita. E allora sì che vedremo che è il segno che ci ha lasciato, è il segno più bello. Cristo è risorto. Cristo ha vinto i miei problemi. Cristo ha vinto la mia depressione. Ha vinto la mia tristezza. Ha vinto i miei scoraggiamenti. Ha vinto le mie malattie. Ma questa fiducia ce l'ho solo se sto insieme a Lui. Condivido la mia vita con la Sua parola. E faccio di Gesù il compagno della mia vita. Altrimenti sarò come questa generazione malvagia. Continuo a chiedere, Signore dove sei? Signore cosa fai? Ma non li dedico un attimo. E non prego mai. E quindi non so quanto Dio mi ama. Quindi carissimi amici, iniziamo bene questa settimana. E le diciamo, vieni Signore Gesù. Vieni nelle nostre vite. Vieni e accompagnaci. Vogliamo credere che sei risorto. Credere che sei vivo. Credere che sei la luce della nostra speranza. Ci affidiamo a Te oggi, in questa settimana. Affidiamo a Te le nostre preoccupazioni. Affidiamo a Te i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri dubbi e perplessità. Affinché Tu ci conduca sui sentieri di vita eterna. A Te la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, buona giornata. Un caro saluto, un abbraccio da parte mia e della coinonia Giovanni Battista, Oase di Biella. Ciao, buona giornata. Grazie che mi avete accolto. Grazie che mi avete accolto. Grazie a tutti.